L'associazione Mavo organizza per sabato 30 novembre 2019 a Vallo della Lucania una serata solidale. In virtù del progetto di umanizzazione delle cure per i pazienti oncologici, tale associazione è lieta di invitare i pazienti oncologici ed un loro amico o accompagnatore ad una pricena che si terrà presso il ristorante Vallo City, sempre a Vallo della Lucania, a cui seguirà lo spettacolo gratuito, niente come sembra, presso il teatro Leo de Beradinis a Vallo della Lucania. Le donazioni richieste per assistere allo spettacolo, afferma il presidente onorario Antonella Tarquini dell'associazione Mavo verranno sostenute a nome dei pazienti dalla stessa associazione e saranno devolute alla vacanza del sorriso per i bambini oncologici di tutta Italia. Pertanto tutti coloro che sono interessati a partecipare a questo evento che ha il sapore appunto dello stare insieme ed eseguire un'opera buona non solo per i malati oncologici che vi parteciperanno ma anche per sostenere le cure dei bambini oncoematologici di tutta Italia, può rivolgersi a suddetta associazione tramite la pagina Facebook. Buongiorno